Ciao a tutti, oggi inizio il video completamente struccata perché sto per fare la No Mirror Makeup Challenge una challenge che consiste nel truccarsi e nel cercare di truccarsi nel miglior modo possibile senza avere a disposizione però uno specchio ora io ho qui davanti la telecamera con lo schermino girato verso di me mentre parlo vi faccio vedere che lo rigiro e iniziamo vedete lo vado a ritirare aiuto non ho specchi qui con me come potete vedere cominciamo ovviamente ovviamente io non mi sono mai truccata senza specchi ho un po' paura del risultato un po' paura del riso 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 e beh questo è andato proprio non si sa dove è andato però quest'altro guardate quasi quasi ci siamo quasi mi son truccata meglio mi son truccata quasi meglio rispetto a quando mi guardo allo specchio vabbè qui l'eyeliner proprio dove dove qui quasi quasi ci siamo e quasi 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 ci siamo non è male cioè ragazze non è male sì beh le sopracciglia sulle sopracciglia avevo proprio paura perché poi utilizzo ovviamente utilizzo una polvere abbastanza scura quindi se sbaglio a toccare qualche parte di pelle si colore immediatamente comunque devo dire che sono estremamente soddisfatta e pensavo di fare veramente molto 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 peggio e invece e invece non mi dispiace comunque devo dire che mi sono divertita tantissimo quindi voglio taggare qualcuno taggo chiore 83 candy cat chiara paradisi e madda fashion e con questo è tutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo video tag come sono andata anche il fondotinta devo dire non è andato niente 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 male cioè attenzione comunque con questo è tutto bacione ciao